ciao ciao a tutti e benvenuti su archidee come potete vedere oggi unboxing andiamo a spacchettare un pacco regalo arrivato da bibi craft per un'altra collaborazione di tre video infatti vedrete come sempre questo unboxing e poi due tutorial a dire la verità io lo avevo già aperto già avevo sbirciato il contenuto ma adesso lo faccio vedere anche a voi questa volta ho ordinato tutto materiale a tema wire wrapping quindi ho ordinato delle pietre da incastonare e tanti fili metallici per fare le incastonature perché ultimamente nel mio studio ho fatto un corso sulla tecnica wire wrapping che mi ha fatto venire voglia di fare altre creazioni e soprattutto andando a vedere il materiale che avevo mi sono accorta di essere un po accorto di fili metallici e questo è il motivo degli oggetti che ho scelto io ho già molte pietre e componenti da incastonare ma non ho resistito alla scelta di queste danut che sono delle pietre assemblate con strisce di pietre naturali come l'ametista l'avventurina verde e lapislazzuli corniola wagata rossa avventurina rossa e diasporo rosso e sto leggendo la descrizione dal sito dove riporta che queste donut fanno riferimento ai chakra infatti le fettine sono 7 come i 7 chakra io non sono ferratissima sull'argomento chakra energia delle pietre eccetera mi sono piaciute tantissimo per il loro aspetto estetico se avete voi qualche commento da fare se siete esperti nel tema scrivetelo qui sotto al video nella sezione dei commenti passiamo poi a guardare i fili che sto tirando fuori il primo filo che avete visto era un filo a sezione quadrata questo invece è un filo a sezione semicircolare sono fili che si usano in combinazione il quadrato e il semicircolare per fare delle incastonature hanno una lucentezza particolare mi è dispiaciuto solo che la tonalità del filo semicircolare fosse leggermente più scura rispetto a quella del filo quadrato e il filo quadrato è un filo in rame con trattamento non tarnish ed è argentato all'esterno intendo dire in colorazione argentata e non con placatura argento 925 perché sarebbe ovviamente costato di più poi ho preso un pacco che conteneva quattro colorazioni di filo da 0 8 che è una delle dimensioni che si utilizza di più e le quattro colorazioni sono argento oro rame e ramenticato quindi quel marroncino diciamo e poi ho preso un filo in colorazione rame da 04 non so se già l'ho detto ma tutti questi fili hanno trattamento non tarnish quindi anti ossidazione io mi trovo bene a lavorare con i fili con questo trattamento anche di altre marche e c'è qualcuno che dice il contrario ma io mi trovo bene così di questo filo sono rimasta sorpresa perché pensavo di aver preso un filo liscio da 04 non avevo fatto caso bene alla descrizione e neanche alle immagini a dire la verità ma poi ho visto che era che è un filo trecciato quindi sono in realtà tre fili più sottili che vanno a formare questo filo è molto interessante voglio vedere però se poi funziona bene per fare le legature speriamo di sì incrociamo le dita se tutto va bene ve lo mostrerò in uno dei prossimi tutorial altrimenti ne troverò un altro uso sicuramente e arriviamo adesso a un pacchettino con un kit che contiene un filo e degli accessori e vi devo rivelare che non acquistavo questo tipo di filo veramente da tantissimi anni questo è il filo che si utilizza per fare i montaggi delle collane con gli schiaccini e si tratta di filo in acciaio sul sito viene riportato come tiger tail wire mi sembra che quando lo acquistavo all'epoca nei negozi fisici si chiamasse filo di acciaio cerato per intenderci io lo utilizzavo moltissimo per i montaggi delle collane con le pietre dure magari intervallate a perle di pasta polimerica e mi piacerebbe tornare a montare qualche collana appunto con le pietre dure perché risistemando il materiale ho visto che ho parecchie pietre dure e vorrei indossarle e appunto farci delle collane e nella confezione c'è tutto quello che serve in questo piccolo set anche se sinceramente gli schiaccini sono un po pochi ma io dovrei averne ancora alcuni di quelli vecchi quello che mi lascia un po perplessa è che sul sito per quanto riguarda la minuteria c'è scritto color acciaio e non c'è scritto acciaio mentre invece il filo è proprio di acciaio quindi speriamo insomma che i moschettoni durino e non virino di colore altrimenti poi mi tocca cambiare moschettoni anellini e tutto quanto infatti un grande svantaggio di quando realizzavo quelle collane era che poi si ossidavano tutte le parti delle minuterie soprattutto degli schiaccini e comunque sono andata a riprendere il filo a sezione semicircolare perché volevo farvelo vedere accanto al filo a sezione quadrata io sul sito non ho trovato due fili con le giuste dimensioni e della stessa marca e già un po di tempo fa per una collaborazione avevo sbagliato a prendere la dimensione del filo semicircolare ne avevo preso uno troppo grosso mi urta un po il fatto che il colore non sia lo stesso e inoltre purtroppo sul filo semicircolare non c'è scritto che è con trattamento non tarnished o permanently colored che è la stessa cosa si tratta sempre di antiossidazione quindi questa cosa mi ha lasciato un po perplessa e sicuramente ci farò prima degli esperimenti per me spero che questa recensione sia stata utile a tutte le persone interessate alla tecnica wire wrapping prossimamente troverete dei tutorial ma se volete approfondire la tecnica ricordatevi che è sempre attivo il corso online gioielli wire wrapping dove si parte dalle basi e si arriva anche a progetti avanzati e le spiegazioni sono molto più dettagliate rispetto a quelle qui dei video su youtube questo proposito proprio per rinfrescarvi un po la memoria a fine video vi metto un po di immagini delle mie creazioni wire wrapping realizzate per il corso corso che come tutti gli altri vi ricordo che potete venire a seguire in presenza nel mio studio a roma e con questo è tutto io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao